cosa vuoi patato dimmi cosa vuoi facciamo alcune domande io ti faccio le domande e tu mi rispondi che dici aspetta sono indeciso allora io ti faccio una domanda e tu devi rispondere aspetto andando dietro per vedere se c'è qualcuno lo so io perché fare questo aspettate il tuo nome allora dimmi il tono come ti chiami mi chiamo giulio quanti anni hai un anno e un mese il tuo sesso sono maschietto il tuo piatto preferito croccantini il tuo piatto preferito i croccantini la tua bevanda preferita l'acqua fresca come si chiama la tua mamma si chiama valentino quanto vuoi bene alla tua mamma aspetta fammi fammi pensare quanto voglio bene la mia mamma e la voglio tanto 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 bene e la mia mamma e ci tengo intanto apuri sei fidanzato mi piacciono alcune gattine però sono deciso che scegliere sei sposato no sono sposato cosa dirvi è stata un'intervista un po strana se vi è piaciuto l'intervista basta dirlo ok ciao ci vediamo al prossimo video ciao